Da un lato l'idea di riorganizzazione della rete ospedaliera del presidente commissario ad acta alla sanità frattura, dall'altro la controproposta elaborata dai parlamentari del PD Roberto Ruta e Danilo Leva. Al centro c'è il diritto di cura e la salute dei cittadini molisani, c'è il futuro della sanità pubblica, di quella privata, degli operatori che lavorano nel settore. Le due proposte ampiamente discusse, esaminate dal governatore e dai due parlamentari che venerdì sera, sabato mattina ed ancora questa mattina si sono ritrovati per tentare di trovare la quadra, sembra non trovare invece un punto di incontro. Troppo distanti le posizioni, troppo diversa l'impostazione che si vuole dare alla sanità con la struttura commissariale che intende riorganizzare la rete ospedaliera puntando al potenziamento della sanità privata, ai danni di quella pubblica e con Ruta e Leva che dicono no. Posizioni che dunque sono inconciliabili come conferma anche il comunicato stampa congiunto nel quale i tre mettono nero su bianco quella che allo stato attuale è la situazione. Considerate le proposte formulate messe a confronto, si legge nella nota, registriamo reciprocamente il permanere delle differenze di analisi, di impostazione di strumenti e di obiettivi. Ma al centro c'è una terza soluzione che rappresenta l'ultima spiaggia, l'ultimo tentativo per impedire che si verifichi la spaccatura definitiva, una strada che i tre indicano in maniera estremamente sommaria. Abbiamo individuato un'ultima ipotesi che potrebbe rendere possibile la convergenza e che necessita di ulteriori approfondimenti tecnici e finanziari che giovedì pomeriggio avremo a disposizione, hanno concluso. Frattura, Ruta e Leva. In sostanza in questi giorni dovranno capire se esiste la copertura finanziaria e l'agibilità giuridica per questa terza strada, ma se mancheranno quei necessari presupposti salterà il banco e in quel caso la sanità aprirà la porta a scenari ancora peggiori di quelli delineati in questi mesi.